Sì, Marti Scorsese, sulla grandezza di questo regista, penso non ci sia niente da dire o da aggiungere. La peculiarità di questa nostra rassegna, come tutti gli anni, è che tutti i film vengono proiettati in vera pellicola cinematografica. E credo che il pubblico, che negli anni va sempre ad aumentare, abbia percepito l'originalità di quello che proponiamo. Perché partecipare, presenziare, fruire di una proiezione in vera pellicola è un evento certamente diverso e più originale. Quindi diciamo che si crea anche un certo tipo di atmosfera, anche romantica, durante il corso delle proiezioni stesse.